Dimmi Claudia, che c'è? Chi? Deve arrivare una cliente? Eh, falla passà! Sì, non c'ho voglia. No, no, ho capito idea. Guardala tu. Non ho voglia, io non ho voglia, Cla. Per favore, guardatela tu. Chi è questa? Dove esce? Dove arriva? Ma non ho voglia, ho gli occhi chiusi. Io sto tutto il giorno così, finché non se ne va. Sto con gli occhi chiusi, va bene? Facciamo così. La incontro con gli occhi chiusi, faccio il paragnosto. Tocco a vedere se è un uomo o una donna. No, vabbè. Cosa vuole? Prenotare una visita dal dottore? Io sono la segretaria, certo. Che domande fai? Pure tu. Buonanotte, Cla. Buonanotte. Salve, sì. Dica. Come si chiama? Ermene Gilda. Azzo. Complimenti per la fantasia in famiglia. I suoi genitori come si chiamano? Lilia e Vagabondo? Questa Claudia te la sei persa. Era bella. Comunque, a parte gli scherzi, dica. Cosa vuole? Una visita dal medico? Fabrietti? Vabbè. Vabbè. E boia Faust, che palle, però. Eh? No, niente. Stavo parlando con la mia collega, sì. Trema tutto, c'è il terremoto. Eh, mi dica. Visita cosa? Dove? Dove le fa male? Visita così. Arriva dal medico con gli occhi chiusi. Voglio una visita. Prenota una visita. Cioè, deve sapere cosa, perché. Viene qua dal medico per cosa. Perché sta bene. Uno se sta bene dal medico non viene. Madonna mia mia moglie, voglio rimandarla a quel paese questa. Non capisce niente. Che pazienza che ci va. Che pazienza. Dio, dammi la forza. Anzi, dammi la pazienza. Perché se mi dai la forza faccio la terza guerra mondiale, la quarta, la quinta, la sesta. Dica. Sono tutte orecchie, non vede? Occhiaie e orecchie aperte. Fabrietti, il medico. Lei da dove è uscita? Ah, non è di qua. Cioè, scusi, eh. Lei non è di qua e viene da questo medico? Dal medico qua del paese? E' scema. Me lo faccia dire, me lo lasci dire. Lei è scema. Cioè, non è, non vive qui. Vive in un altro paese. A mezz'ora di macchina da qua ed è venuta dal medico qui. Perché? Cosa? Scusi? Non ha dormito stanotte, sta impazzendo. Non dormire fa male, mi raccomando. Dorma almeno otto ore. Se lo impazzisce. E fa impazzire anche gli altri. Fabrietti, chi gliel'ha consigliato? Se non è il suo medico di fiducia? Della mutua? Medico di famiglia. Eh, vabbè, sbaglia solo lei, non capito. Posso sbagliare io? Posso sbagliare anch'io? O può sbagliare solo lei? Perfettina. Già la odio questa. Chi? Fabrizio. Eh, Fabrizio Fabrietti. Così si chiama il medico. Qualche problema? Mmh, vabbè. E quindi noi che cosa dobbiamo fare se lei abita a un'ora di macchina? Non mezz'ora, un'ora. Adesso sono aumentate, sono aumentati i chilometri. Abita a un'ora di macchina e viene qua. Perché? Chi gliel'ha detto? Il medico di là è occupato e quindi l'ha trovato il medico più vicino a un'ora di macchina e venire qui. Ma questa è scema. Che gente le vuole incontrare ancora in questo mondo? Veramente, mettetevi a posto. Gente pazza. Io se abito a un'ora di macchina, sto lì, non vengo in un altro paese a un'ora di macchina. Cioè, non ha senso. Claudia, ma chi l'ha pigliata questa? Non capisce niente. Madonna, poi parla napoletano. Miiii. Io parlo siciliano, vediamo se capisce. Miiii. Miiii. Miiii, zica. Eh? Sugno palermitano. Eh? Che minchia stai a fa? Un po' romano, un po' siciliano, ma se tanto questa non capisce niente. Io non so parlare di dialetti. Vabbò. Quindi? Che vuol fare? Che vuol fare? Ma chi me l'ha fatto fa? Ma chi me l'ha fatto fa? Di fare sto lavoro qua? Allora. Torni a casa al paese suo. Mi raccomando. Perché qui, da me, non possiamo fare niente. Il medico non è il suo. Questo qua. Quindi via. Adesso ho capito. Mi è arrivata la lampadina. Mi si è accesa la ring light. La lampadina mi si è accesa. Adesso questa qui è venuta qua perché le piace il medico. L'altro è un vecchio del bacucco. Del cavolo. Del pentu. Del pettine. E le piace questo qui che è giovane. Lei è furba. Volpix. È un volpino questa qua. Eh? È un volpino, sì. Sei un volpino. Ti do del tuo, non me ne frega. Anche se non ti conosco, non ti voglio più vedere. Sei furba, sei. Sei furba. Io ti ho visto. C'hai gli occhi vispi. C'hai gli occhi furbi. Questo qui è figo. Perché è un medico figo, carino, tutto elegante, giacca e cravatta, bellissimo. Poi due occhi. Mamma mia. Mi piace pure a me. Però lei è venuta qua non tanto perché sta male, ma per paccagliarsi il medico. Io non ho già capito questo. Ho capito perché non capiva. Parlava tutta la lingua sua strana. Ma faceva vinta e non capì quando parlavo io. No, comunque vado a casa. Lo baccagli sui social piuttosto, ma non davanti a me perché mi fa girare le scatole. E ho già i venerdì girati, anche se è mercoledì. Quindi vada a casa, al paese suo. Prima che la caccio a calci. Ok? Chiaro. Vada. Vada, 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 via. Non la voglio più vedere. Qui deve sparire, non la voglio più vedere. Vada, vada via. C'ho? Sparesca. Fabrizio, veramente, ma che gente prendi tu come clienti? Questa qui dovevi vederla. Voleva baccagliarti. Cioè, ma veramente, io sono scioccata, sono sconvolta. Tu sei pure fidanzato, no? Ah, non sei più fidanzato? Ah. E cerchi qualcuno? Fantastico. Io sono single. Ti interessa? Ti voleva baccagliare questa qua. Non so neanche come si chiama, non sei neanche presentata. L'ho cacciata via, ho fatto bene, no? Ah. Non ti piaceva l'hai vista dallo spioncino nella porta? Ok. E chi è che ti piace? C'è qualcuno che ti piace? Fabri? Io? Ti piaccio? Ma veramente? Ah. Sono contenta. Sono soddisfazione. Sì, comunque, non ci sono clienti adesso. Hm? Ci prendiamo un caffè? Hm? Che dici? Va bene, chiudi lo studio, io chiudo qua. Metto il cartello Don't Not Disturb e andiamo a berci un caffè. E vai, Claudia, e vai, ce l'ho fatta, sì, ce l'ho fatta. Sono anni che lo paccaglio, che mi piace un sacco questo odore. Adesso, da oggi in poi sarà mio. Speriamo in bene, incrocia le dita, dei piedi, delle mani, anche per me, che vada bene questo appuntamento per un caffè. Capisce a me? Tu vai in pausa, vai, vai. Anche un'ora. Cioè, un'oretta basta per fare quello che voglio fare io. Quando ci sei, Fabrizio, andiamo, eh? Grazie. A presto. Ciao. Adesso vado in vacanza col dottorino. In ferie col dottorino. Ciao. Ciao. Ciao.